Come lavorare sull'intonazione? Da coach, un primo consiglio che posso dare è quello, per esempio, quando si inizia a fare il vocalizzo, facciamo la nota per il cantante, che è questa, magari poi il cantante in realtà parte da questa. Quindi inizialmente, secondo me, è un po' inutile andare a obbligare la persona a stare sulla nota dove voi volete fare iniziare l'esercizio. Quindi sono io che vado dietro la nota del cantante. Se questa è quella che lui sente, io andrò su questa. Cosa succede? Che il cantante alle prime armi non riconosce neanche la tastiera come suono. Quindi è molto importante il riconoscimento vocale, quindi la mia voce da insegnante, deve andare a ripetere e far ripetere lo stesso suono che ha l'allievo. Quindi magari non riconosce il suono della tastiera o del pianoforte e quindi di conseguenza sono io che cerco di fare da specchio all'allievo. Quindi mi muovo un po' sulle note che lui riesce a riconoscere. Se lui o lei, anziché fare questa, fa questa, allora io mi sposterò qua. E farò anch'io questo. Posso provare a spostarmi e vedere se riesce a stare nella zona. Se vedo che non ci riesce e che sta sempre in un'altra nota, allora mi sposto di conseguenza. Cerco di fare io le stesse note che fa lui col pianoforte. Così abbiamo un primo approccio di riconoscimento dello strumento sulla propria voce. Una seconda fase può essere quella di fare dei glissati. Quindi è come se cercassimo di accordare il cantante. Quindi questa è la sua nota. Mi muovo con delle sirene. Non è facile fare le sirene. Neanche per i cantanti che sanno già cantare. Perché magari riconoscono sempre degli intervalli netti. Quindi abituarsi già all'idea di sirena può essere un buon modo anche per stimolare il movimento sonoro. Secondo me le sirene sono una parte fondamentale. Anche perché da qui riesci a accordarti. Devi andare qua. La tua voce normalmente da cantante non intonato va qua. Se devo fare un salto di un tono, proverò ad accordarmi con la sirena. Cercherò di creare questo tipo di legame con la sirena. Dopo un paio di lezioni il cantante sarà un pochino più confidente sull'intonazione. Un altro esercizio semplice è quello degli intervalli. Quindi cercare di fare ear training. Quindi mi sposto di nota. Una volta che avrai familiarizzato, che avrà familiarizzato con la tastiera, ci si potrà muovere con gli intervalli e riconoscerli. Inizialmente forse è meglio fare do, re, mi, fa, sol. Però può essere anche do, mi, sol. Insomma, gli intervalli di tre non troppo lontani. Oppure gli intervalli di quinta. Fare proprio una lezione di ear training più che di tecnica. In modo da abituare proprio l'orecchio a muoversi sulle note, sulla tastiera. Meglio magari all'inizio non usare proprio i soliti vocalizi con me, per esempio. Ma si possono usare soltanto la consonante M Che aiuta già sull'intonazione, senza doversi esporre vocalmente verso l'esterno. Oppure delle sillabe semplici Un attimino più sicure, più tranquille, anziché l'impostazione da vocalizzo. Ovviamente sull'intonazione c'è sempre un po' di lavoro da fare. È un lavoro impegnativo. I risultati li dà. Dobbiamo avere solo molta pazienza. E anche l'allievo deve avere pazienza. Deve essere consapevole del fatto che c'è un lavoro da fare su quel tipo di calibrazione. Può essere un po' frustrante per l'allievo questo tipo di lavoro Perché si chiede se è il caso che canti o meno. Io a questo tipo di domanda rispondo sempre Che se ti piace cantare, se ti fa stare bene, ne vale sempre la pena. Anche se ti devi mettere un pochino sotto a studiare tecnica Vedrai che poi nel tempo qualcosa esce fuori di buono e di molto positivo. Allievi che hanno fatto dischi da stonati sono diventati intonati e hanno fatto disco. Devono sempre tenersi in allenamento. Magari dopo un po' di inattività il cervello si rilassa nuovamente. Però si può fare. Una cosa triste. Mi è capitato di avere degli allievi, ma anche i genitori stessi degli allievi Che mi dicevano che l'insegnante precedente non aveva avuto fiducia nel ragazzo E magari faceva pesare molto il fatto che non fosse intonato, che non andasse a tempo. E io penso solo che ci voglia molta pazienza e fare l'insegnante è anche questo. Cioè riuscire a... Il canto è una cosa molto intima, molto personale. È inutile stare lì a dire non sai fare questo, non sai fare quello. Pensiamo invece a cosa noi possiamo fare per gli allievi. Se no diventa il contrario, sono io che non so fare qualcosa per te. Se l'allievo ha voglia di fare, non è il caso di andare a negargli questa possibilità. Quindi stiamo un pochettino con i nostri piedi per terra e mettiamoci in gioco noi. Cosa posso fare io per te? Questo per me è fare il vocal coach o fare l'insegnante in generale. Non avere una guerra persa davanti e dirglielo. Non è una guerra persa. Mettiamoci in gioco tutti e due. Io mi impegno per renderti migliore, tu ti impegni per renderti migliore. Però parte da tutti e due. Io non posso decidere se tu non sei capace di fare quella roba lì. No.